Abbiamo appena pubblicato un interessante articolo con video su una caravan usata, una Rimor New Polaris 460LF che abbiamo trovato dal concessionario Auto Nord Car & Caravan di Vanzago in provincia di Milano Che cosa c'è di particolare? Che non appena è stato pubblicato, subito sono arrivate valangate di mail e sono stati messi dei commenti sui vari social tutti con una e una sola domanda Ma perché la Rimor ha smesso di produrle? Punto di domanda Bella domanda Ma cerchiamo di capire che cosa esattamente è successo Parliamo dell'antefatto Ovvero col passaggio del nuovo millennio la Rimor decide di rientrare nel mercato delle caravan e lo fa con la New Polaris Intanto che parlo vedete le foto di quella che abbiamo trovato noi È una caravan molto particolare Lo vediamo già dall'esterno che ha le pareti in vetroresina Ha la porta a scuderia ovvero antifurto cosa che stranamente devo dire la quasi totalità dei costruttori tedeschi ha abbandonato in quella fascia di prezzo e altre soluzioni è più larga di 3 cm rispetto alle 2,30 normali Gli interni sono bellissimi La caravan riscuote un lusinghiero successo da parte del pubblico Ma non di vendita Eppure tutti gli addetti alla stampa ne hanno parlato e ne hanno parlato in maniera importante Lasciamo stare che forse ci sono stati dei mensili tipo plein air e autocaravan in Italia che hanno perfino esagerato secondo il mio parere in troppo secondo me perché poi rischia di danneggiare anche il troppo però diciamo che quello è un mio parere ma tutti ne hanno parlato proprio perché era un evento i costruttori, molti costruttori tedeschi, inglesi erano preoccupati perché sappiamo tutti, inutile nasconderscelo che c'è un mercato non ancora aperto disattivato di caravan secondo le due indagini che ci sono fate da diversi costruttori parliamo comunque di migliaia di pezzi che non viene attivato perché si tratta di caravan made in Italy ovvero la caravan made in Italy ha una particolare caratteristica ma se non viene sfruttata è come se fosse una caravan qualunque il problema vero però del perché le caravan Rimor non hanno avuto successo mentre oggi hanno successo sul mercato dell'usato è perché non si capisce come mai uno produce camper e li vende come se fossero camper produce caravan e le vende e le comunica come se fossero camper allora no è come se uno avesse la carne e la vende come carne poi carciofi e li vende come se fossero carne è ovvio che non funziona ecco secondo il mio modesto parere il punto che non ha permesso alle caravan Rimor di vendere così tanto come avrebbero meritato il punto è solo ed esclusivamente quello o a mio parere ed è un peccato perché ricordiamo che oggi le caravan Rimor New Polaris vengono vendute più facilmente di tante altre e a parità ovviamente di condizioni hanno circa un 20% in più di quotazione rispetto alle concorrenti che erano all'epoca della stessa fascia quindi si sono svalutate incredibilmente meno e questo significa che il prodotto c'era il prodotto c'era c'era anche il target di riferimento a cui poterle vendere un'occasione veramente persa a cui poterle vendere